musica 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 come vuoi? il blu? ok altre luci colorate le luci verde è il mio, abbiamo scelto il colore ciao l'equipe, ben ritornati con un nuovo rendezvous io sono sanji, qui è tu grazie del suggerimento, grazie a paolo grazie mille per averci suggerito i giochi che fare, dei giochi multiplayer scusami paolo scusami, che cosa hai fatto tu? ha suggerito i giochi come da bravo iscritto, come da bravo commentatore, lui ci segue lui ci ha suggerito i giochi cosa fare cosa vuoi di più nella vita? un lucano, adesso, in questo preciso momento va di brutto proprio che bel bubbone, grazie sai che vanno di moda? certo ma non lo hai con dicino, ne ho trovati altri 4 che sarebbero molto figli fare che culo che oggi la Toa andrà a scegliere mercenari, baolalla superindi, questo è quello di guida e questo è io contro di te no mi sento ispirata a quella guida sei ispirata a quella guida? ok si ma aspetta però, mica ci sono le palline no non ci sta l'analogico che pallina è analogico, si chiama analogico non è una pallina è un analogico sto morendo non posso giocare gioca no? c'è solo a battere l'arena non c'è una gara, non c'è una corsa non penso che si possa correre che cos'è? mi stai imbrogliando e no perchè se tu prendi e no, un giocatore solo è qua c'è solo a battere l'arena la X tipo la, eh la infatti eh aspetta però, così sei pronto tu hai questo, scegli i personaggi tu cerchi, questi sono i personaggi disponibili io ho già provato uno mi piace molto carino e figo ho il lupetto, la strega ecco, questo qua oddio il pesce è guida la macchina molto ricopiato ricorda molto Ratchet e Clank oddio perchè mi viene incontro? eh quello infatti ci dobbiamo distruggere ti devo prendere o no? si li devi prendere, queste sono armi e quelle armi ti servono per distruggere l'avversario e che cazzo? e quelle armi ti servono per distruggere l'avversario dai è mia ah bastardo è normale scusami tanto eh il fatto è di distruggere l'avversario hai tre cuori tu le prendi con LT o RB con RT con RT salti perchè fai così poi fai un 360 molto più stretto eccoli c'è una cosa che mi piglia oh non ti vedo più non ti vedo più ecco ti ho visto ti ho visto ti ho visto oh no 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 nooo caso con queste stef a casa e mi chiappi come funziona sto cosa? noi sei noi sei noi sei c'è ancora il cuore ma che fai avendo il cuore tu? ma che sto fa? oh insieme ma tonna epica cioè tu l'hai lanciato e l'ho lanciato e qualcosa è stato parato e ci vogliamo tanto bene ma come fai a non prenderti? non ti vedo io ti vedo a mo ci sta la mappa al centro a mo ci sta la mappa al centro non l'ho manco vista quella mappa io e poi ci sta un'icona con scritto P2 oh e voi l'ho preso però no adesso si e due cuori due cuori nooo un cuore io un cuore io manco ti sto vede calcolato tutto a casa oh mi sono preso da sola ma che sufficiente è impossibile sei un cuore ho preso un cuore ultima ultima dai no prendi quel cocomero eccoci oh 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 che cazzo è dove 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 eccoci eccoci ti vedo ti vedo ti vedo vai 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 ti vedo ti vedo perché non mi trovi niente ti vedo bam perché non mi lancia niente ma e perchè non ce l'hai amore devi prendere è andata prese che roba che roba che c'è oh donna ancora ti manca un punto un cuore un cuore un cuore un cuore un cuore oh 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 dove sei non lo so io ho visto io pure io ho visto l'ananas che cos'è l'ananas altri meloni altri meloni altri meloni altri meloni altri meloni dove sono i meloni che cos'è questo questo mi permetterà di distruggerti ecco di oh 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 madonna t'ho sfiorato non ciò ce l'hai visto eh oh bravolo mi ho preso la mia ma resisti a questa mo eh dai eh l'ho preso resisti a quest'altra bam 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 eh dai uno almeno ti riprende no oh due no sei rotta nel muro eccoci 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 ti vedo 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 ci vedo ti vedo ti vedo sto ками tu ァ uo 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 Dove? Dove sei? Eccoti, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo P2 Pam! No, pazzo Ci sta il muro In face, face to face Pam! Hai visto la tua morte negli occhi Pam, papà, pam I minigiochi fanno parte di una catena Di 5 video che usciranno prima di Natale E rappresentano appunto 5 minigiochi Giocheremo insieme, sempre, tutte le settimane Spolliciate, condividete Perché non si è spento il mio? Perché chi vince si spegne No, non funziona Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete Iscrivetevi al canale se non ancora siete iscritti Qui da San Gettutto Qui dal minigio, simile in Mario Kart, è tutto Qui da Toh, è tutto Noi ci vediamo al prossimo rendezvous con un altro minigioco Salut, equip Bisù, equip Ehm 구 날 Ehm 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 Grazie a tutti.